Cresce a marzo la produzione industriale nell'eurozona dopo un trimestre di ralentamenti registrando un più 0,5% sul mese. Sull'anno si tratta di un aumento del 3%. Sono i dati Eurostat. Nei 28 paesi l'indice mensile è salito al più 0,4% a marzo, pari al 3% annuale. Fra le economie più lente, quella della Gran Bretagna. I paesi che invece hanno registrato gli aumenti maggiori sono Estonia, Portogallo e Grecia. Quest'ultima al più 2,6%. Nel primo trimestre il PIL inglese è lievitato soltanto dello 0,1% trimestre su trimestre e dell'1,2% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. La Banca d'Inghilterra accusa il clima freddo per spiegare i limiti della crescita. In un comunicato separato l'Ufficio di Statistica Britannico ha dichiarato che i salari sono aumentati ad un tasso anno del 2,9% nei tre mesi precedenti a marzo, più rapidamente dell'inflazione. L'Italia ha visto una crescita della produzione industriale del più 1,2% dopo il meno 0,5% del mese precedente, pari al 3,6% sull'anno. Tutte le economie europee sarebbero cresciute nel 2017 e le prospettive rimangono favorevoli secondo il Fondo Monetario Internazionale. Ma affinché la crescita duri oltre l'attuale ripresa, i paesi europei devono allentare i vincoli strutturali che rappresentano delle barriere agli investimenti.